Ci sono avvenimenti nel nostro Molise che rivestono una immensa importanza culturale, eppure sfuggono totalmente agli interventi informativi, cheppure si occupano quotidianamente di beghe e pettegolezzi politici e istituzionali e sempre invece di sagre e fiere e feste popolari, cheppure investono una certa importanza locale. A Doratino, nello specifico nella località La Rocca, a pochi passi dal fiume Biferno, nei pressi appunto della Morgia con la torre Medioevale, dal 2005 vengono ogni anno per quattro settimane tra giugno e luglio numerosi giovani archeologi dell'Università di Roma alla Sapienza, che sono impegnati in uno scavo che riveste una notevole importanza, come sottolinea il dottor Vittorio Mironti del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, appunto della Sapienza. Questo luogo, diciamo, è molto importante perché noi ci occupiamo soprattutto di un periodo d'età del bronzo, quindi inquadrabile intorno al secondo millennio avanti Cristo. Di questo periodo si conoscono abbastanza bene, insomma, in maniera un pochettino più approfondita, gli insediamenti che, insomma, occupavano soprattutto le aree costiere, soprattutto dalla parte adriatica. Meno bene però invece si conoscono le aree interne dell'Appennino, diciamo, e soprattutto la valle di Biferno è molto interessante perché già a partire degli anni settanta Greenbarker effettuò delle ricognizioni trovando molte attestazioni pertinenti proprio a questo periodo, quindi da sempre forse è stata considerata come un percorso naturale che collegava la costa adriatica con le aree più interne. Proprio, diciamo, qui a Doratino, da 12 anni appunto, questa è la dodicesima campagna di scavo, abbiamo indagato uno degli insediamenti forse meglio conosciuti dopo appunto tutte queste campagne, che ha restituito una frequentazione databile tra il XII secolo e il XV secolo avanti Cristo, caratterizzata da tutta una serie di aree funzionali che ci raccontano un po' quali erano le attività che loro svolgevano quotidianamente, soprattutto legate appunto alla sussistenza, alla loro economia. Nello specifico quest'area negli anni scorsi ha restituito appunto tutta una serie di piastre di cottura connesse proprio alla lavorazione, della trasformazione dei cereali e quant'altro.